Buonasera a tutti e ben ritrovati con Amico Fisco. Questa sera ci fa compagnia Miledis De Zuani dell'Ufficio Territoriale di Este dell'Agenzia delle Entrate che ci parla in particolare del modello IVA 2013. Allora Miledis, di che cosa parliamo oggi? Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili i provvedimenti di approvazione dei modelli IVA 2013. Parliamo di modelli IVA 2013 che consistono in modello IVA 2013 utilizzabile per la dichiarazione del 2012. Il modello IVA 26LP utilizzabile per le liquidazioni periodiche degli enti e società che fanno la liquidazione IVA di gruppo. E il modello IVA 74 bis utilizzabile dai curatori fallimentari per le ditte in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa. Ulteriore adempimento previsto dalla comunicazione annuale dati IVA che riepiloga le operazioni effettuate nell'anno solare precedente ed è previsto dalla normativa comunitaria come adempimento e consente a ogni Stato membro di effettuare il calcolo delle risorse proprie. Per oggi parleremo però delle novità presenti nel modello di dichiarazione IVA 2013. Ecco, andiamo proprio a vedere quali sono le novità nel modello IVA 2013 relativamente al quadro V. Allora, partiamo dal quadro VE che è il quadro previsto per le operazioni attive in cui è stato soppresso il rigo previsto per le operazioni soggettate all'aliquota del 20% in quanto l'aliquota ordinaria adesso del 21%. Inoltre è stato ridenominato il campo 5 del rigo VE 34 relativo all'accessione di fabbricati in quanto il decreto 83 del 2012 ha previsto l'applicazione del regime reverse charge per tutti i fabbricati sia abitativi che strumentali in cui il cedente faccia espressa opzione per l'imposizione dell'IVA. E' naturalmente il caso di precisare che questo tipo di applicazione di regime è riservato ai soggetti passivi di imposta. E' stato poi inserito il nuovo campo 3 a rigo VE 36 relativo alle operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile negli anni successivi destinato all'indicazione delle operazioni effettuate adottando il regime IVA per cassa. Tutte le operazioni quindi fatturate dall'1.12.2012 per le quali non è stata incassata l'imposta al 31 dicembre. In tale rigo quindi vanno evidenziate le fatture emesse dalla predetta data. Bene, allora andiamo a vedere anche quali sono le novità presenti nei quadri VE. VE, VUJ e VL. Anche nel quadro VF, analogamente al quadro delle operazioni attive, nel quadro VF relativo invece agli acquisti effettuati è stato soppresso il rigo che indicava le operazioni assoggettate all'imposta del 20%. E' stato poi introdotto il nuovo campo 3 a rigo VF 19 relativo agli acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita agli anni successivi riservato ai soggetti che a decorrere dall'1.12.2012 hanno effettuato acquisti adottando il regime IVA per cassa. In tale, in questo campo, vanno indicati quindi gli acquisti annotati dalla predetta data per i quali la detrazione dell'imposta a credito è riservata all'anno successivo. Presente anche nel quadro VJ, la novità relativa all'applicazione del reverse charge per gli acquisti degli immobili abitativi. ci sono due novità nel quadro VL, l'introduzione del nuovo campo 3 a rigo VL 29 relativo alla indicazione dei versamenti non effettuati per effetto della sospensione per a seguito di eventi eccezionali. La ridenominazione del rigo VL 40 in versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito. Che cosa significa? È un campo in cui si possono indicare i versamenti effettuati per restituire il credito utilizzato in eccesso anche se non relativo al 2012. Per quanto riguarda invece i quadri VX e il quadro VO? Ecco, il quadro VX è stato integrato di fatto a seguito della soppressione del quadro VR quindi per effettuare la richiesta a rimborso del credito IVA adesso si dovrà compilare il quadro VX in particolare a rigo VX 4 in posta di cui si chiede rimborso sono presenti i campi da 2 a 8 per l'indicazione dei codici del presupposto della richiesta di rimborso alcuni in questa sede, magari ne nominiamo alcuni la cessazione di attività oppure l'effettuazione di operazioni non imponibili la richiesta del minore fra i crediti dell'ultimo triennio oppure la richiesta di rimborso relativo alle società che sono controllate e controllanti del credito che non può essere trasferito al gruppo. Invece quali sono a questo punto e guardiamo quali sono i termini per la presentazione e il versamento? Sì, la dichiarazione annuale IVA si può presentare sia in forma autonoma sia in forma unificata con il modello unico la scadenza della presentazione della dichiarazione è il 30 settembre 2013 per poter utilizzare in compensazione il credito che emerge dalla dichiarazione la dichiarazione deve essere assolutamente presentata per l'utilizzo di un credito in compensazione superiore a 5.000 euro l'utilizzo di tale credito sarà effettuato a partire dal 16 del mese successivo alla scadenza della presentazione della dichiarazione coloro che intendono compensare questo credito nel modello F24 possono anticipare la presentazione della dichiarazione in forma autonoma e tale dichiarazione può essere presentata dal 1 febbraio 2013 i soggetti che presentano la dichiarazione entro il 28 febbraio 2013 sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dati IVA i termini del versamento del saldo annuale sono la scadenza di quest'anno è prevista per il 18 marzo 2013 se il saldo a debito è superiore a 10,33 euro arrotondato a 10 euro il versamento può anche essere fatto in forma rateale per ogni rata successiva alla prima si applicherà la maggiorazione dello 0,33% oppure si può scegliere di effettuare il versamento con le scadenze del modello unico in questo caso allora la maggiorazione prevista sarà dello 0,40% mensile nell'ipotesi che ci sia un debito IVA a saldo della dichiarazione un debito IVA da compensare con crediti emergenti dal modello unico la maggiorazione dell'1,20% cioè la somma dello 0,40% per tre mesi sarà applicata su residuo debito IVA al netto delle compensazioni perfetto Miledis ti ringraziamo per averci spiegato che cos'è questo modello IVA 2013 vi ricordo naturalmente l'email della trasmissione amicofisco chiocciolatelechiara.it con amicofisco ci ritroviamo la prossima settimana grazie dell'attenzione, arrivederci grazie a tutti